Le perdite sono state più elevate nelle precedenti elezioni, potrei cavarmela dicendo che quello che voi già tutti sapete è che peraltro è facilmente dimostrabile analizzando le classifiche delle gagne di tutte le colombarie uniche e dei singoli concorrenti. Faccio solo due parole su questa persona qua, il terzo classificato è Pallucena Alberto di volontà, Pallucena Alberto non pianta, io Nicolò che mi portavo a una certa età, perciò è potente solo per farla con la maionica. Quest'anno ho fatto due tre, mi serve a finire la gara d'ora, io vorrei un grosso saluto e che avrei convinto l'assessore allo sport di molto tanto e quanto tempo. Abbiamo un Presidente, ma l'assessore allo sport, abbiamo un Presidente che mi va a chiamarla, Presidente dell'assessore allo sport, perché è un Presidente che mi ha avuto un po' di più solo, mi ha fatto spiegare e mi ha avuto molto 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 appena. Grazie. 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 Grazie.